L'Ocse ha consistentemente rivisto a ribasso le previsioni di crescita globali e dell'Italia a seguito dell'esplosione del coronavirus che sta recando gravi danni all'economia. L'ente parigino prevede ora per l'Italia una crescita 2020 a zero, ovvero 0,4 punti percentuali in meno rispetto alle stime dell'economic outlook dello scorso novembre. Sul 2021 ha invece mantenuto la previsione di un più 0,5%. Sulla crescita globale l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico si attende ora un più 2,4%, ossia 0,5 punti in meno rispetto alle stime precedenti. Il dato 2021 è stato invece alzato di 0,3 punti a più 3,3%. L'economia globale è a rischio, ha sottolineato l'ente parigino, e la capoeconomista Lawrence Boone in conferenza stampa ha dichiarato che le banche centrali dovrebbero inviare subito un segnale sul fatto che sono pronte ad agire sul coronavirus. Dovrebbero essere pronte a dare più liquidità affinché i mercati possano operare nel modo più normale possibile, ha detto. Infine, se le prospettive economiche dovessero deteriorarsi ulteriormente, dovrebbero agire con misure espansive.